Amici di Windows Teca e Nocchioteca, eccoci qui con un nuovo video. Oggi vogliamo eseguire un focus su un gioco, su un titolo molto atteso che è stato finalmente reso disponibile al download. Stiamo parlando di GTA San Andreas, quindi Grand Theft Auto, che è possibile acquistare al prezzo di 6,49€ direttamente dallo store. Però questo titolo è stato reso disponibile solo per i sistemi Windows Phone 8 e per tutti quei dispositivi che hanno almeno 1GB di RAM. Speriamo che in futuro venga rilasciata una versione anche per tutti gli altri dispositivi. Andiamo quindi a vedere come gira su questo Nokia Lumia 920, sul quale appunto l'abbiamo installato. Come sapete non è più uno degli ultimissimi modelli, ma come vedrete non ha alcun tipo di problema e ci possiamo giocare tranquillamente. Vi diciamo subito che il download dallo store è abbastanza rapido e è anche la prima installazione. Appena avviato il gioco, la prima volta, vi chiederà un download addizionale di 2,5GB. Quindi assicuratevi prima di acquistarlo, in quanto non c'è la versione di prova, di avere abbastanza spazio per installare tutto il pacchetto completo del gioco. Ma eccoci qui nella schermata principale dove troviamo ovviamente diverse opzioni, tra cui riprendi dall'ultimo salvataggio, oppure possiamo iniziare da una partita completamente nuova. Abbiamo diverse opzioni di comandi, perché infatti per questo gioco sono stati inseriti doppie levette analogiche per controllare la visuale e il movimento, più tutte altre impostazioni. Abbiamo diverse impostazioni della partita. Abbiamo possibilità ovviamente di gestire la luminosità e la risoluzione del gioco, quindi in caso appunto magari notiamo qualche lag possiamo giocare con queste impostazioni e magari migliorare il gameplay. Abbiamo anche gli effetti sonori molto carini, perché abbiamo la possibilità di gestire e selezionare la stazione radio che più ci piace da sentire quando saremo in macchina con il nostro soggetto, il nostro protagonista. E infine abbiamo la possibilità di impostare diverse lingue, tra cui l'italiano. Ok, direi di cominciare, quindi ripartiamo da dove abbiamo lasciato il nostro protagonista e andiamo a vedere appunto come gioca, come, scusate, come gira questo gioco sul Nokia Lumia 920. Lascio un po' la musica perché anche gli effetti sonori sono assolutamente da sentire e da apprezzare. Eccoci qua. Eccoci qua, questa è la schermata di gioco dove abbiamo sul lato destro il tasto per utilizzare l'arma che abbiamo, in questo caso noi abbiamo i nostri pugni come arma letale, abbiamo il tasto per correre e sul lato sinistro quando andiamo a cliccare, ecco qua che ci compare il comando analogico per gestire a 360 gradi il nostro giocatore. Schiacciando il tasto corso ovviamente il nostro giocatore comincia a correre. Quando ci avviciniamo a una macchina poi ci compare anche il tasto per poterci, diciamo, appropriare con modi molto eleganti proprio sotto la polizia della macchina. E infatti ci becchiamo subito la prima stelletta. Va che fondello che ho. Notare la musica, notare appunto io che scappo dalla polizia. Boh, il primo incidente, vediamo se riusciamo a seminarla dietro ai donuts. Andiamo a nasconderci da qualche parte, se no qui non mi fanno assolutamente giocare. Tra l'altro io adesso sono entrato in un taxi e ho la possibilità di accettare delle missioni, quindi delle richieste di passaggio da dei clienti. Ecco qua che entro in modalità tassista e in questo momento sulla mappa a cui posso accedere tramite la parte alta posso rispondere alle chiamate di clienti e quindi poi andargli a portare dove voglio in giro per la città o meglio dove vogliono loro. Come vedete parte il tempo, partono le corse e posso appunto gestire questa nuova seconda missione. Mettiamola così. Ovviamente guadagnando dei soldi. Questo vale anche quando per esempio rubiamo un'ambulanza come nel primo caso. Aspettate che abbasso un po' perché non vorrei che poi non si sente una mazza. Quando rubiamo, anzi prendiamo in prestito un'ambulanza anche lì possiamo attivare la modalità ambulanza e andare a soccorrere la gente per la città. Come vi dicevo sulla parte alta abbiamo la mappa a cui si può accedere e dove possiamo andare a trovare la nostra casa, quindi dove possiamo scusate che queste sono proprietà in vendita che possiamo acquistare e poi dove possiamo andare a trovare appunto altri luoghi di interesse che ci possono servire come appunto in questo caso un personaggio da cui poi potrò prendere delle missioni che però non ha più idea di dove sia, dovrei vedere dov'è, cercarlo. Eccolo qui. Ovviamente dall'altra parte di dove sono io, perfetto. Per aggiungerlo ci metterei delle ore anche perché io sono una pippa colossale come avete potuto notare, quindi fidatevi di me che se andate lì trovate il tipo che vi darà delle missioni da fare che voi dovrete compiere e portare a termine. Vediamo se riesco magari a raggiungerlo. Sto andando da direzione completamente opposta, vabbè. Diciamo che ci proviamo. Seguo ovviamente nella mappetta piccolina in alto, intanto investo un po' di persone così almeno vi faccio vedere e rendere conto di com'è il gameplay su questo Nokia Lumia 920. Ovviamente Rockstar Games, che è la casa che ha prodotto e reso disponibile questo gioco, ha migliorato graficamente il gioco e l'ha reso in alta risoluzione e l'ha appunto sviluppato appositamente per i dispositivi mobili. Quindi diciamo che c'è stato un vero lavoro dietro a Rockstar Games per poter permettere a questo gioco di girare anche sui Windows Phone e non solo su questi tipi di dispositivi. Vediamo dove cavolo sto andando. Io parlo, qui è un casino parlare, concentrarmi, guardare la mappa, schivare le persone che tanto non ci sto riuscendo, fare incidenti milionari, qua andiamo avanti, vediamo se riesco, però come potete vedere non mi sto avvicinando per una mazza. Allora, ovviamente bisogna prendere come potete immaginare la mano, soprattutto con i comandi, non è comodissimo anche perché i comandi sono un po' piccolini. Ecco qui intanto ci sto andando a fuoco, magari riesco. Ah, tra l'altro c'è la possibilità, ecco, massacrato, perfetto, c'è la possibilità di cambiare il visuale quando si prende una macchina. Quindi abbiamo diversi visuali che adesso magari vi faccio vedere. Ecco, magari prendiamo in prestito questa macchina qua, giusto così per passare inosservati, perché c'è la figata che possiamo cambiare, come potete vedere, la visuale e quando abbiamo un'ambulanza o una macchina della prossima possiamo anche divertirci e accendere le sirene. E vediamo di... ecco qua, guardate che potenza, 4x4, boh. E vedete che anche in questo caso io posso attivare la modalità ambulanza e salvare, come potete vedere, un po' di persone. Ecco qua, bella lì. Ammazziamo qualcuno. Dovrei andare dall'altra parte per... Poi, come vi dicevo prima, all'inizio del video, se non ci troviamo con questi comandi è sempre possibile andarli a cambiare. In questo caso sto di nuovo per esplodere, magari usciamo molto velocemente. No. Uh, per fortuna. Piovito di un gatto e me la scappo sulla strada, altro posto molto sicuro. Anche il livello di traffico che si può trovare sulle strade si può aumentare o diminuire. In altro, tra l'altro, troviamo, oltre all'arma in utilizzo, i nostri soldi, la nostra vita che è la barra rossa e l'ora virtuale del gioco. Come vi dicevo, si può accedere ai comandi anche in maniera rapida dalla mappa. Si può, appunto, cambiare la tipologia di comandi e vedere un po' con quale ci si trova meglio. Torniamo al gioco. Quindi anche in questo caso dovete un po' giocarlo a voi e vedere un po' quale tipologia di comandi vi piace di più. Direi che è tutto, perché le considerazioni finali del gioco sono molto semplici, nel senso che è un bellissimo gioco che vale la pena provare, il costo è abbastanza elevato, ma per tutti gli appassionati davvero è uno sforzo che si può fare. Più che altro perché è un gioco davvero molto lungo, che ha una lunga vita e che davvero non annoia assolutamente, anzi. La possibilità poi di portare avanti la storia con tantissime missioni diverse, acquistare, arricchirsi, comprare macchine e quant'altro, davvero rende questo gioco uno dei più particolari presenti sullo store di Microsoft. Ovviamente chi conosce GTA troverà queste mie parole inutili perché sa benissimo il valore di questo gioco qui. Direi che è tutto, vi do un saluto e vi ringrazio per la visione. Un saluto da Francesco Colonna per WindowsTecca.net. Ciao a tutti!